Lo sport nella mia vita rappresenta un senso di libertà perché è l'unica cosa che al momento mi appaga. Questa disciplina l'ho scelta all'unità spinale dove ero ricoverata perché ho provato tantissimi sport, però questa è quella che mi ha colpito di più. Nel mio percorso sportivo le persone più importanti sono state principalmente il mio ragazzo che mi ha seguito e mi segue ancora e poi il mio allenatore che ha molta fiducia in me, più di quante ne ho io. Del mio sport amo fare dieci perché è una bella sensazione farli, però non amo quando perdo di vista alcuni movimenti, alcuni gesti tecnici corretti e poi per riprendere ci metto un bel po' di tempo. L'atleta che mi ispiro è Elisabetta Mino perché la ammiro principalmente per la testa che ha, e per la concentrazione che riesce ad avere in tutte le gare, in tutti i campionati in cui lo ho visto avversario. Se non avessi fatto l'atleta sicuramente avrei continuato a fare il lavoro che stavo facendo prima, che era quello di una semplice commessa, però mi piaceva quindi avrei fatto quello. Una volta terminata la carriera spero di poter rimanere sempre all'interno del campo del tiro con l'arco, come tecnico, come allenatrice perché mi piace questo mondo. Il momento sportivo più bello che ho vissuto fino ad oggi, non avendo ancora fatto trasferte internazionali, è stato il campionato italiano di due anni fa, mentre mi scontravo con Elisabetta Mino per la finale e i punti di distacco erano veramente pochi, quindi ci ho creduto fino alla fine. Ho un portafortuna che porto con me alle competizioni, però non vi dico qual è. Il pensiero ricorrente la notte prima di una gara è quello di fare bene il giorno dopo e soprattutto di ricordarmi tutto quello che devo fare. Quest'anno di pandemia i primi giorni li ho vissuti dentro casa con una sensazione che non provo molto spesso, però poi c'è stata la possibilità di andare ad allenarsi comunque grazie a delle autocertificazioni che ci ha dato la federazione e quindi le giornate le passavo almeno allenandomi e facendo qualcosa di utile. Penso che lo sport possa contribuire alla ripartenza perché molte persone in questo periodo sono state chiuse in casa e penso ai ragazzini e ai bimbi che sono stati dentro a non far nulla e penso che possa essere uno sbocco per molti. La vittoria giochi, un'eventuale vittoria giochi, la dedicherei alle persone che credono in me e come ho detto prima principalmente al mio ragazzo e al mio allenatore che sono le persone che sudano sotto il sole con me e sono sotto l'acqua insieme a me e quindi la dedico a loro. L'avversario che temo più degli altri credo sia principalmente la mia testa perché se ti metti delle cose strane in testa non arrivi mai all'obiettivo. L'avversario che inviterei a cena in realtà l'ho già invitato ed è Veronica Floreno. Ci ho provato a farle mangiare il peperoncino prima di una gara però non ha avuto i suoi effetti come pensavo. Non ho pensato ancora ad una meta dopo Tokyo perché al momento sono concentrata a lavorare per questo. Poi si vedrà. In un talent sicuramente mi esibirei cantando che è una cosa che mi piace fare. Non ho una serie tv preferita però mi è rimasto molto impresso un film che riguardava la vita di Pelé dove mi ricordo che lui praticamente è partito da zero, non aveva nulla però poi è diventato un grande grazie alla sua forza e alla sua tenacia. Non ho dei brani preferiti ma ho un cantante preferito diciamo che è Nesli e tutti i suoi brani mi trasmettono molta tranquillità quindi mi piace ascoltarli. Per me la parola resilienza significa avere la forza di andare avanti dopo un qualsiasi episodio negativo della vita.